Banca d'Italia traccia un bilancio dell'economia dell'Abruzzo nei primi nove mesi del 2019. Dati negativi in alcuni settori come il metalmeccanico, l'edilizia e l'automotive a causa della diminuzione dell'export. Inoltre aumenta la disoccupazione. Al contrario, non teme crisi il comparto della produzione dei mezzi di trasporto e quello dell'alimentare. Nei primi nove mesi dell'economia dell'Abruzzo vediamo innanzitutto un rallentamento per quanto riguarda l'attività industriale prevalentemente nel settore metalmeccanico che è dovuto in parte alla diminuzione della domanda estera. Abbiamo un dato la diminuzione delle esportazioni del meno 1,9% nei primi sei mesi dell'anno che è in controtendenza con l'aumento che invece si era registrato nell'anno precedente. Questa diminuzione riguarda un po' tutti i comparti tranne l'alimentare e in particolar modo le esportazioni verso i paesi dell'Unione Europea. Nell'edilizia anche abbiamo assistito ad un rallentamento, le ore lavorate sono diminuite del 4% e in questo caso incide anche la diminuzione dell'erogazione dei contributi pubblici per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma. Abbiamo invece qualche segnale positivo per quanto riguarda i servizi, grazie al buon andamento del turismo e dei trasporti. L'occupazione è diminuita nei primi sei mesi del 2019 dell'1,8% e questa tendenza si era già registrata negli ultimi mesi dell'anno scorso. Passando al credito abbiamo un lieve indebolimento del credito alle imprese dello 0,3% in particolare verso quelle di piccole dimensioni e del settore delle costruzioni mentre per le famiglie abbiamo un aumento sostenuto del credito al consumo ed un aumento anche per quanto riguarda le domande dei mutui anche se c'è stato un lieve rallentamento. In provincia di Teramo è la pelletteria che mantiene in positivo i dati del settore delle piccole e medie imprese puntare sulla qualità premia. Piccole e medie imprese, come va il settore in provincia di Teramo? Diciamo che in provincia di Teramo abbiamo fortunatamente la grossa impresa che tiene ma anche la piccola e media impresa ha i suoi numeri positivi. Diciamo che piccole e medie imprese ha fatto da 20 dipendenti fino a 50 quindi inizia ad essere per la provincia di Teramo anche imprese importanti.